Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Undertale, signori, sul nostro mino burattino Mi piace chiamarlo così perché sembra un, sembra un, come si chiama, un burattino, un manichino, ecco, questa faccia gialla, sembra pure corean Cioè, è di strana provenienza quest'uomo, non facciamoci troppe domande Signori, prima di partire il video io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti Vi ricordo di seguirmi anche sull'altra piattaforma, quella, Viola, dove spesso faccio live Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, soprattutto su Instagram, in cui tramite le stories vi aggiorno su quando e dove farò le live Detto questo, non perdiamo tempo e partiamo con il video Ok, signori, allora, il primo video è andato bene, è andato bene, vi è piaciuto e vi è intrigato la storia e anche a me L'ultima volta la signorina, la troll, 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 troiel, ci ha lasciato qua, signori Che ci ha dato anche un telefonino, se non ricordo male Come faccio a selezionare il telefonino? Voglio chiamare la signora Saluta, chiedi informazioni, chiama mamma, filte, saluta Digitazione Sto chiamando troll Quindi Ah, è toriel, scusatemi Volevi solo salutare? Bene, allora Ciao Spero basti Clic Che cosa brutta che abbiamo fatto Abbiamo fatto gli squilli come una volta Andiamo avanti Oh, c'è una ranocchia, signori C'è una ranocchia Drin Pronto, sono Tori Ah, ma chiamato lei Ci siamo sentiti due minuti fa, zia Non hai lasciato la stanza vera No, no, no Ci sono le puzzle che ancora devo spiegarti Sarebbe pericoloso tentare di risolverli da solo Fai il bravo, va bene Certo, clic E chi si muove? Io rimango nella mia bella stanzetta, bello tranquillo Ciao Cracra Scusami, umano Ho dei consigli su come combattere i mostri Non mi... se agisci in un certo modo o lotti fino ad averli quasi sconfitti Potrebbero non volerti più combattere Crema per la faccia Forte rossore Cracra No, 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 no Fermi tutti, fermi... no Granocchio sembra riduttante a combatterti Granocchio Complimento Mi continuo a complimentare con te per quanto fai schifo Forte rossore Cracra Ma che cosa vuole? Ma che paranoia? Ma perché non se ne va? Questo che cosa fa? No Mi ha colpito Esamina Granocchio attacco 4 difesa La vita è dura per questo nemico Dai Cracra Cracra Ma che vuole? No Ma quando finisce questa cosa? Complimento Ma questo non capisce che cosa voglio... E continua a combattere Ora gli faccio male, signori Ora mi sono rotto le scatole Ora lo colpisco male Granocchio sembra riduttante a combatterti Che devo fare? Minaccia Granocchio non ha capito che hai detto Ma ne è comunque spaventato Vattene Trema Trema No Ma che paranoia è ancora qua Ma che attacchi sono poi? A combatterti Oh, perfetto Lo combattiamo, signori Dai, così Cracra E scusami Ma non si leva dalle scatole Non si leva dai tre passi Io mo 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 ti... Ganocchio sembra riduttante a combatterti Lotta Oh, l'abbiamo eliminato? No, ancora no E che paranoia, signori Questo non si levava dai tre passi E che paranoia Io sono buono e caro Ma se questo non si leva... Oh, perfetto Bello, preciso In piena fronte Hai vinto Guadagni tre punti di esperienza E due monete Ok Che ci faccio con le monete? Non si sa Ci vado a comprare le pulci al mercato del pesce Andiamo di qua, signori Mmm Dei strani simboli cinesi Giapponesi Aspettate Torniamo un attimo indietro Vedi se beccano dei granocchi Mi... Oh Ma che rottura di scatole Sì Granocchio Tiè, in piena fronte Oh Meno dodici Gra, gra, cre, cre Dai Ma è tutto... Ma quanti... Ma mi ha colpito Salta Tiè, in piena faccia Dai così Meno diciassette No, peccato Abbiamo perso l'attacco di prima Riuscivo a prenderlo subito Subito prima Lotta Tieni, in pieno fronte Ok Ma come come... Hai vinto Guadagni tre esperienze E due monete Ok Di qua Oh Un piedistallo Dice Prendetene una Prendi una caramella? Sì Hai preso una caramella Premi C per aprire il menu C Ah ok Forse è dopo C Oggetti Scusatemi C Mostro caramella Va bene Mi fa piacere Abbiamo un mostro caramella signori E non possiamo andare oltre Qui c'è qualcosa? No Va bene Abbiamo recuperato una caramella signori Vedete se beccano un granocchi Che vuole attaccarmi Mi incacchio Oh salve Perfetto Ehm Simboli giapponesi Che ce devo fa? No So accascato Aha Un prato rosso Andiamo di qua signori Mi sono un attimino perso Ok No ma dai Ma è tutto così Che cos'è questa cosa? Un frignolo Si avvicina Manzueto Agisci Frignolo Consola A metà strada della tua prima parola Frignolo Scoppia lacrime e scappa Hai vinto Guadagni zero esperienza Zero male Meno male Questo è scappato Meno male Vediamo se possiamo passare di qua signori No Ma che rottura di scatole Sentite Ma se passo direttamente così Non faccio prima Salve Bene Ok Abbiamo trovato la piccola scamotage Oh Drin Troia L'avrò tole L'avrò tole Però non sono toriel Dai C'ho solo il tuo numero Chi poteva essere? Per nessuna ragione in particolare Quale preferisci? Per nessuna ragione in particolare Quale preferisci? Cannella O mu? Mu Tutta la vita Capisco Grazie a molti Click Questa è pazza Questa è A stare rinchiusa qua da sola Sono toriel Dai Non ho di Non ho di La cannella Vero? So qual è la tua preferenza Ma So cerco il naso Se te ne trovassi nel piatto Certo Certo Capisco A proposito Grazie per la tua pazienza Questa è pazza Signori Questa Ho sempre più dubbi 3 di 4 rocce grigie Vi consigliano di spingerle 3 di 4 rocce grigie Vi consigliano di spingerle Ma questa se non è la devo spingere così Ok No Dai Però Granocchi Ma è tutto pieno di granocchi sto posto Allora Guadagno 3 punti Esperenza e 2 monete Sì ma c'ho solo 13 di vita io Come recupero altra vita? Ok E di qua siamo passati Oh mio dio Nuovii disegni giapponesi E qual è la strada Signori? Uh Sì No Sono cascato Mannaggia Ah sì Questa l'ho vista Allora Dobbiamo arrivare fino in fondo Poi Uno Uno Dritto E poi abbiamo Poi due dritti Poi Uno Due Tre Quattro Ok Più o meno ci sono No Un frignolo Agis No Lo devo attaccare Non ti volevo attaccare Frignolo L'ho ammazzato subito Due esperienze e due monete Aumento di love Va bene Succedono cose strane Che non mi è chiarissimo Però va bene Allora signori Stiamo calmi Se non sbaglio Dobbiamo andare così Fino in fondo Ok Poi così Ok Poi così Poi così Poi così E poi No Come siamo Perché siamo cascati? Ah Dovevamo andare fino in fondo Ok Va bene Ok va bene Non mi Non ci posso Due granocchi Saltano verso di te Questi mi ammazzano Signori Granocchio A Ti faccio male Bello che ero partito Tutto bello tranquillo Dobbiamo essere pacifici Voglio fare Tutto in tranquillità Non voglio ammazzare Nessun mostro Farò i complimenti a tutti Sto facendo Prendere peggio Morti Però va bene Allora stiamo calmi Così 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 No Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Uh Sono passato a pelo Ok Spingiamo questa roccia C'è un punto di salvataggio Porca miseria C'è un Cavolo No Ma perché fanno La combo Dico io Ma perché fanno la combo Dico non possono venire Una alla volta Crac Crac Crucru No 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 che No questa non me l'aspettavo Facciamo fuori granocchio È quello più antipatico Dagli in faccia Granocchio Così Sniff Sniff Che porca miseria Che attacchi sono Signori Questo gioco Non sono un amante Di questo tipo di giochi Ma mi sta incuriosendo troppo Io non capisco Va bene Ci sarà un E la Socio Chi ha detto che potevi spostarmi Em Quindi mi chiedi di spostarmi Ok Solo per te Zuccotto Eh Vuoi che mi sposti un altro po' Eh va bene Va bene Così No Non va bene così Zio Brutto scemo Era la direzione sbagliata Ok Credo di capire Le rocce Ma è stupido Devi rimanere là Sì Devi rimanere fermi Mi fa davvero faticare Ma Vedi se si sposta Oh ok Le rocce parlano Signori Oh un punto di salvataggio Salviamo Salviamo Ok Signori Ce l'abbiamo fatta Altro punto di salvataggio Trovato Io per questo video Mi fermo qui Signori Abbiamo scoperto Che le rocce parlano Che le ranocchie Non gli piacciono i complimenti Ma vogliono solamente combattere E che siamo passati Al lato scuro Perché abbiamo Sterminato Metà dei mostri Presenti sul mondo Però va bene Detto questo Vi ringrazio Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale E di seguirmi su Instagram Detto questo Signori Ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao